nome cosa vuoi scritto sulla tomba il tuo sogno erotico se ti svegliassi un giorno donna qual è la prima cosa che faresti ritornare uomo tre tue qualità pazienza simpatia tre tuoi difetti non mi incazzo facilmente ma se mi incazzo mi incazzo troppo sono un po palloso quando faccio il divertente per forza e sono un po rompipalle di cosa non riesci proprio a fare a meno di passare dell'oro in famiglia il segreto del successo divertirsi e veniamo al provino foto per un calendario fai febbraio aprile maggio agosto settembre novembre dicembre dimmi signore il pranzo è servito come lo direbbe lino banfi signori il pranzo è servito un mimo dimmi presi incollinencen alciusol triste imitando qualcuno chi era fammi una risata fammi una risata falsa fammi una risata di rabbia fammi una risata muta fai un cane salutaci con un insegnamento di vita credere bene in se stessi e fare l'impossibile per realizzare i propri desideri questa cosa è tremenda alessandro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti